Non solo cultura e turismo. Tra i tesori che l'Italia non sa utilizzare al meglio ci sono anche i boschi. Coprono un terzo del territorio, la loro estensione è in crescita costante, raddoppiata dagli anni 50 ad oggi, ma la loro produttività è ridotta ai minimi termini. Siamo quartultimi in Europa per quantità di legno tagliato, peggio di noi solo Slovacchia, Bulgaria e Cipro. E così, paradosso dei paradossi, le industrie italiane del legno utilizzano per oltre l'80% materia prima proveniente dall'estero, facendo del nostro paese il leader degli importatori. Una situazione preoccupante, non solo perché un bosco ben sfruttato potrebbe garantire importanti ritorni economici alle popolazioni locali ed evitare lo spopolamento di valli e zone montane, ma perché boschi gestiti male portano con sé il pericolo di dissesto idrogeologico, incendi e costi annessi anche in termini di vite umane. Da questo scenario a tinte fosche, reso d'attualità dalla seconda edizione della giornata internazionale delle foreste, si salvano in pochi. Le buone notizie arrivano praticamente solo da chi ha scelto la via della certificazione forestale, uno strumento che da un lato garantisce la gestione sostenibile dei boschi e dall'altro apre importanti scenari di mercato per le aziende e le proprietà boschive che se ne dotano. A fare la parte del leone, soprattutto il nord-est, dove è particolarmente diffuso lo standard da PFC. Capofila è il Trentino Alto Adige, in cui l'85% del patrimonio forestale è certificato, secondo il Friuli Venezia Giulia seguito dal Veneto. E non a caso il legno italiano usato dalle industrie nazionali della filiera arriva quasi unicamente da queste tre regioni.